arriva vai vai gioco lo sto registrando si quindi lo dobbiamo dire nel garage nella caverna di Anthony 260 la caverna si vede si vede lascia potete notare ok la comodità di questo di questo anche poi ci abbiamo fatto le notate ricordiamo qua che c'è stato il concerto live dei tre zimbelli fai salsicchia 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 si stanno guarda come il sogno biondo è materassino eh ma te la passo qua ci ho passato un gas di nocce a dormire quando caliamo se si 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 st è spiltusato! da notare il buco del materassino nooo può essere come l'altro devo stare in questo casino minchia cioè allora è un altro quello giusto ah questo qua va bene a cari polino penso di si speriamo di si no no vabbè vedete questo è il pirtuso del materasso Anthony l'ha gonfiato per niente vabbè sta chiamando facendo uno dopo guarda che non c'è cosa per montare chi lo fa oggi oh guardate il video quello ho fatto col nico vai su Sacro Blog vai su